Sequenza di condizionamento Sono giunto a considerare l'abitudine come un comportamento provocato da una sequenza di condizionamenti, però non so da dove proviene questa sequenza di condizionamenti. Proviene da un sentire che non ha niente a che fare con la mente, la quale esegue questo sentire attraverso l'abitudine. Infatti, quando il sentire si amplia, la mente abbandona l'abitudine che non è stata inutile, ma indispensabile perché ha provocato il superamento dell'abitudine. Grazie per la visione.